Una convenzione tra l'autorità portuale e autostrade meridionali che sarà sottoscritta a breve consentirà di completare in tempi rapidi l'ultimo tratto di galleria che collega il valore cernichiare via Ligea-Salerno, tra il porto commerciale e lo svincolo autostradale. Insomma, l'ho annunciato stamani con orgoglio il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, presente sul cantiere in occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara. In tal caso sarà anche possibile l'utilizzo di microcariche rispetto al tradizionale metodo di trivellazione che consentirebbe di dimezzare così i tempi di realizzazione degli ultimi 1189 metri di scavo. Il governatore si è spinto oltre parlando delle grandi opere strutturali in corso d'opera a Salerno ed anche dell'ipotesi di trasformare il viadotto Gatto in una sorta di giardino pensile o in una mostra permanente per ospitare opere di artisti contemporanei. Presidente, le grandi opere vanno avanti, le interferenze vengono risolte? Mi auguro di sì. È una delle grandi opere strategiche che abbiamo progettato per la città di Salerno. Porta Est, Porta Ovest, Trincerone Ferroviario e completamento della Lungo Irno. La Lungo Irno l'abbiamo completata negli anni passati. Il Trincerone attendiamo di chiudere il cantiere a Via Diaz. Porta Est abbiamo raddoppiato la viabilità sulla litoranea orientale. Manca l'appello Porta Ovest, cioè le gallerie e i tunnel per collegare direttamente il traffico portuale con l'autostrada. È un'opera complessa. Siamo stati sfortunati come in tante grandi opere. Il cantiere si è interrotto per problemi relativi all'impresa che ha vinto la gara il 2013. È subentrato con un fitto d'azienda un consorzio a Rechi che ha rilevato il cantiere. Abbiamo la possibilità di chiudere quest'opera per primavera del prossimo anno, se lavoriamo con intensità e senza disturbi particolari. È un'opera strategica che serve a spostare tutto il traffico portuale in galleria. Liberiamo dalle pesantezze che si determinano l'imbocco dell'autostrada venendo dal Carmine, la via Risorgimento. Abbiamo la possibilità veramente di dare una nuova qualità urbana alla città di Salerno, oltre che lavoro per una sessantina di operai. La Regione ha finanziato per altri 60 milioni di euro la parte terminale di quest'opera. Abbiamo reperito altre risorse perché non è ancora risolto il problema delle interferenze fra il traffico che viene dal tunnel e il traffico dell'autostrada sud. Dobbiamo risolvere queste interferenze. Ripeto, la Regione mette a disposizione tutte le risorse necessarie. Se troviamo una soluzione tecnica, davvero abbiamo risolto tutti i problemi di viabilità della città. La convenzione che ha annunciato può essere la stura perché con le microcariche si risolvono il problema degli ultimi 500-600 metri di scavo in sei mesi contro oltre un anno. È del tutto evidente che abbiamo soluzioni tecniche di assoluta sicurezza. È chiaro a tutti che la sicurezza sarà il vincolo assoluto per completare quest'opera. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Se ci muoveremo come ci si muove in tutti i cantieri del mondo, rapidamente noi chiudiamo davvero in tempi brevi di mesi un'opera di valore straordinario. Presidente, sulle infrastrutture, insomma, è la conferma che la Regione è attenta a tutto il territorio. Molto spesso sopperisce anche a quelle che sono altre assenze. Lei l'ho detto anche in occasione della recente visita del Ministro De Micheli a Napoli. Ha citato una serie di opere strategiche, chiaramente quella di Porta Ovest per Salerno, ma ce ne sono tante altre ancora in campagna che attendono di essere ultimate, completate e in alcuni casi anche finanziate. Per quello che riguarda Salerno, ovviamente la città è fortunata. Io non ho avuto di queste fortune negli anni passati. Finanziamo tutto il fronte di mare. Credo che parta a breve il cantiere per fare la spiaggia fino al polo nautico, quindi arriviamo già a Pastena. Poi dobbiamo completare la realizzazione della spiaggia fino a Santa Teresa, fino al centro storico. Il progetto prevede la realizzazione di una spiaggia di 80-100 metri dal centro storico di Salerno fino a Ponte Cagnano. Questo significa cambiare il destino produttivo della città, creare un'economia del mare, della balneazione. Poi ovviamente proseguiamo con altri finanziamenti importanti. Il sistema aeroportuale unico che abbiamo realizzato, Capodichino, Salerno, Costa Amalfi, prevede altri 240 milioni di euro di investimenti. Qui ci rimettiamo altri 60-80 milioni di euro per consentire una fluidità del traffico pesante dal porto direttamente nei caselli autostradari. Dunque questo lavoro va avanti. È andata benissimo per la lungo irma. Nel senso che abbiamo trovato un'impresa straordinaria che non ha avuto problemi. Pensate che abbiamo fatto un tunnel all'altezza del Grand Hotel Salerno, lì a Torrione, un tunnel di 70 metri di larghezza con il traffico ferroviario in attività. Quindi veramente è un'opera complessa, ma realizzata davvero in tempi rapidi. Ci auguriamo che il consorzio che è subentrato abbia gli stessi tempi di realizzazione dell'impresa che ha realizzato la lungo irma. Ci attendiamo di chiudere solo il cantiere del Trincerone all'altezza di Via Diaz. È rimasto un po' appeso, contenziosi con l'impresa. È un calvario, ma lì l'opera è completa al 95% e sarà un'altra realizzazione importante per la viabilità.